La salute dei gatti durante l'inverno, vedete quanto è bello, Sasi che ci ha portato la dottoressa Vittoria Trocino, veterinaria in Roma, grazie molto per essere qui ad Ippocrate. Allora, quali possono essere gli eventuali problemi dei gatti con il freddo? Beh, diciamo che il gatto essendo un animale che principalmente vive nelle nostre case e non all'esterno, in linea di massima risente meno del cane, del cambio stagionale per quanto repentino possa essere. Di sicuro uno delle problematiche può essere al momento dell'accensione dei riscaldamenti paradossalmente, in quanto per loro la muta, loro si termoregolano biochimicamente, quindi una temperatura interna di 24 gradi simula l'estate ed ecco che uno dei problemi che possiamo avere sono i famosi bolli di pelo che possono portare il loro, se non opportunamente trattati, vomito e disagi relativamente banali ma sicuramente importanti per il loro benessere e la correzione. Allora, sa sì che adesso sta diventando impaziente, giustamente dice ma dove mi avete portato? È un gattino che insomma inizia ad avere la sua certa età perché? Sì, ha purtroppo 10 anni, purtroppo per fortuna, perché sta benissimo. Da questa età in poi il gatto va considerato come un animale geriatrico, anziano. Quindi andrebbero cambiate le attenzioni del proprietario nei suoi confronti. Ovvero, ci dia qualche suggerimento. Ovvero, è sufficiente tante volte semplicemente osservare anche il consumo d'acqua. Un elevato consumo d'acqua può essere sintomo di un problema, un diabete, un'insufficienza renale, questa è una problematica spesso correlata purtroppo a loro, o anche la polifagia, cioè l'appetito esagerato. Non sempre salute. Tante volte il proprietario dice no, il mio gattino mangia, non c'è nessun problema. Può essere un disturbo di tipo ormonale. Se invece mangiano moltissimo, soprattutto, ora stiamo parlando dei gatti, dopo una certa età, può essere un campanello d'allarme. Può essere un campanello di allarme. E poi ce ne sono altri? Beh, in linea di massima anche le neoplasie, tante volte, sono mascherate o sono sottovalutate. Accarezzando semplicemente il gatto posso avvertire magari una neoformazione cutanea che a lui non dà nessun fastidio. Quindi io proprietario posso ignorarla o non dargli troppo peso. Bisogna andare subito dal veterinario. Ricordarsi sempre che le neoplasie sono subdele su di loro come sugli esseri umani. Quindi la diagnosi precoce è fondamentale. Grazie dottoressa Trocino. A voi. Ed allora siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Ippocrate, ipocratechiocciolarai.it per poterci scrivere e anche mandare le vostre video segnalazioni. Quello che non va nel vostro ospedale, nella vostra ASL, riprendetelo con il cellulare e inviatecelo via mail. Oppure ipocrate.blog.rainews24.it per rivedere questa ed altre puntate con la nostra enciclopedia online. Io vi aspetto, se volete, il lunedì mattina alle 10.30 su Gere Parlamento con articolo 32, sabato prossimo alle 18.00. Qui su Rai News torna Ippocrate, il diritto alla salute. Ciao.